Abbiamo presentato una risoluzione per chiedere al Governo di provvedere alla sospensione degli studi di settore per i periodi di imposta 2015-2016 e nel mentre di pensare a una revisione totale dal punto di vista dei controlli fiscali. Questo perché? Perché gli studi di settore erano nati come uno strumento di controllo che non ha mai funzionato perché gli indicatori non si basavano né sulla territorialità né sui dati reali delle singole situazioni e soprattutto erano uno strumento nato prima della crisi economica. Oggi in piena crisi economica è uno strumento vessatorio perché le imprese si adeguano e fanno quadrare gli studi di settore solo ed esclusivamente per evitare controlli ulteriori da parte del fisco. Ovvio che questo vuol dire pagare di più, pagare quello che non è dovuto e noi non ci stiamo soprattutto in un momento di crisi economica come questa, per cui pensiamo che la nostra proposta è quella di chiedere al Governo e ci aspettiamo un confronto su questo, la sospensione e la revisione totale di questo strumento che ripeto è uno strumento che ammazza le imprese e di certo non le aiuta.